Paolo, veramente non so cosa dirti perché a parte la partita di oggi, sfortuna è stata grande. C'è solo da dire bravi ai ragazzi perché oggi l'abbiamo interpretata bene, il risultato è pesantissimo per quello che è stato il campo. Abbiamo fatto la partita, abbiamo preso un gol su un errore tecnico che ci sta, abbiamo avuto le palle per riprenderla. Allora, se devo dire una cosa, siamo stanchi di questi arbitraggi, c'è un rigore clamoroso con una maglia lunga due metri, vuol dire fare uno a uno, non farlo. Adesso è brutto perché Conegliano ha fatto una buona partita, bravi e vanno avanti, però è ora di finirla. Sì, e non è solo questa lamentella di questa partita. Ci sono video ovunque, però succede, io non voglio attaccarmi a queste cose qua, ringrazio i miei giocatori per l'annata che hanno fatto splendida. Peccato queste ultime due partite dove gli episodi sono stati a sfavore. Qualche errore nostro, ma tanti episodi da rivedere. Perché adesso va ben tutto, però anche la gestione dei cartellini gialli, secondo me... L'ho commentato anch'io dalla... Il numero 5 del Conegliano ha fatto otto falli, dagli un giallo e vediamo se ne fa otto. Su questo sì... Quindi è brutto a lamentarsi, non voglio... No, ma ti conosciamo Mauro, sei protestato e ti sei lamentato perché... Stiamo esagerando, ecco. Ti lascio gli ultras, io non ti chiedo se rimani, se non rimani perché è troppo presto. No, adesso buttiamo via sta scottatura perché dispiace non aver concluso al top con la ciliegina, una stagione perfetta, fatta di lavoro, di sacrifici, bravi di nuovo i ragazzi, brava la società che ci mette in condizione di lavorare. Adesso mi prendo una settimana di riposo e dopo deciderò. Ciao Mauro, ciao in bocca al lupo.